Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto GPS per auto 6.2 pollici auto. Generali funzioni. 1, 2 dinti FT LCD tocco digitale display schermo, 3D GU interfaccia utente facile da usare 2. Pixel LCD. 800483. Lingua, cinese, inglese, russo, arabo, spagnolo, portoghese, francese, tedesco, tailandese, turco 4. Supporto iPod funzione 5. Controllo del volante di sostegno funzione 6. Riproduzione di D550 compatibile con CDNP3540MP e G4WMA e lunga PIG7. FMAM con 30 stazioni preimpostate. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon IT, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.